E dopo un quarto d'ora di inviti, bello siamo 3 contro 2, squadre perfette, possiamo partire Dopo un quarto d'ora di inviti, dopo un quarto d'ora, pronostico per questa attività, la perdiamo subito, subitissimo Ovviamente vi mettono non nella squadra 3 ma nella 2, giustamente Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, siamo su GTA 5 Online in un nuovo episodio dei Last Team Lezzo Ragazzi, nuova serie che ho creato l'altra volta e adesso ragazzi siamo pronti a morire istantaneamente Allora, vediamo un po' questa attività, credo di averla fatta in live, sì Siamo 3 contro 2, praticamente ora moriremo istantaneamente, manco iniziamo moriamo, proprio così Così vedete la mia non schermata Comunque ragazzi, ovviamente spolliciate, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al channel, mi raccomando E supportate la serie dei Last Team Lezzo, è una serie bella, capito? C'è un po' di zebba anche in questa serie, quindi Allora, vediamo un po' la situation Allora, facciamo una cosa Qualcuno sta... Cioè, si è buttato... No No, ecco, che ho detto? Subito, subito proprio ragazzi, proprio subito Ho fatto pure la capriula per scansarlo e mi ha preso anche il capriula Cioè, proprio subito Non credo che questo qua farà tanto, non credo proprio Mi sa che questa aveva dei grandi problemi ragazzi Perché stava fermo proprio per farsi prendere Secondo voi è normale? Secondo me, non è tanto normale Ora cerchiamo di fare qualche kill, anche se sarà abbastanza impossibile Ok ragazzi, siamo nel secondo round Se lo perdiamo abbiamo finito tutto, ma Tanto comunque andrà a finire male Io sono pessimista oggi Visto che la Rockstar ci mette in squadre merdose Allora, fuori dalla zona? Cioè, addirittura, io per andare per una macchina devo perdere praticamente Vabbè, comunque, comunque Vai, siamo dentro l'ETS Dovevo andare là sopra Non so se la Shafter resiste a più colpi, diciamo, di lanciarazzi Vediamo, non lo so, sinceramente Cerchiamo di fare qualche kill, anche se la vedo un po' abbastanza dura Molto dura Oddio, madonna, madonna, madonna Mamma mia, aspetta, ho preso quello che mi ha ammazzato prima? Raga, non è... Non è morto? Scherziamo? No, mi trolla l'attività, mi trolla il gioco Cioè, raga, guardate Io l'ho praticamente tranciato Non mi ha dato che l'ho ucciso Scommetto che è ancora vivo Scommettiamo? No, vabbè Scusate, da quando... Non eravamo due contro tre una volta? E... Madonna, madonna, madonna Bam! Sì, dai così, dai così Dai così Mamma mia Comunque Scusate, ragazzi Eravamo Due contro tre Dove è uscito quest'altro, mo? No, veramente, ragazzi Eravamo due contro tre Dove è cacchio uscito, mo? No, vabbè Io sono senza parole, vabbè Il gioco mi trolla Mi ha trollato veramente male il gioco Veramente Tanto era Andrà a finire malissimo E poi vincono loro Perché comunque Ho messo due round Cioè, siamo tre adesso Eravamo due prima Questo qua si è trasportato così Non so, stava guardando Ma non penso che lo fai entrare nell'attività così Vabbè Comunque Niente, dai Niente Sono senza parole Comunque No No, ragazzi Si è buggato Sono Sono scomparsi tutti i lanciarazzi Ci abbiamo solo la pistura adesso Non ci posso Aspe, no Facciamo la cazzata No, vabbè Non mi va di buttare C'è il lanciarazzi a ricercarla Comunque Siamo stati trollati malissimo Mo non so se i vetri sono antiproiettili Della Shafter Ma penso di sì Allora, là sta arrivando Eccolo, eccolo Non è vero Non sta arrivando E' andata neanche Si è nascosto a radar Ovviamente È un'attività Madonna mia Com'è Oh È uscito È uscito un po' di sangue dalla macchina Ma dettagli Allora No, abbiamo ora da caricare No Guarda No, raga È antiproiettile No, raga È antiproiettile Non si fa niente Non si fa No, raga È impossibile Cioè Si è buggata tutta l'attività Non ci ha dato i lanciarazzi Eh, vabbè È finita È finita Vai, mori Ecco, lo sapevo io Lo sapevo E arrivava l'altro Pim, punzecchiato da dietro Subito Subito Niente, raga Abbiamo perso Eh, dovevano stare i lanciarazzi Ma Si è completamente buggata Tutta l'attività Come al solito Il gioco ha fatto benissimo Niente, raga Per questo video è tutto Lasciate un like Iscrivetevi al channel Condividete questo video Ovviamente È andata a finire malissimo Per colpa del gioco, ovviamente L'avevo ucciso Ovviamente C'era già l'altro pronto Per uccidermi dietro Come minimo E niente, dai, raga Per questo video è tutto Ci becchiamo al prossimo video Di la Steam Lezzo Ah, mette pure dislike Giustamente E niente Ci becchiamo Al prossimo video Brai, ragazzi Alla prossimo video Grazie per la visione